L'AMIU ha inaugurato il nuovo impianto di biostabilizzazione. Realizzato con fondi porre e costato all'incirca 13 milioni di euro, consentirà di ridurre drasticamente il volume e il peso dei rifiuti da conferire in discarica. Interessante il funzionamento del sistema. I rifiuti indifferenziati vengono triturati e lasciati a riposo per 15 giorni in apposite celle. Durante questo lasso di tempo viene insufflata aria calda, accelerando l'ossidazione della componente organica e anticipando ciò che avrebbe in natura in parecchi anni. La massa di rifiuti che ne viene fuori è secca, inodore e soprattutto meno ingombrante. In questa maniera lo smaltimento risulta meno oneroso, si allunga la vita delle discariche e soprattutto si evita la dispersione di liquidi potenzialmente inquinanti per le falde acquifere. Ma non è tutto. La fase conclusiva del trattamento consente di separare i rifiuti metallici per un successivo riutilizzo e di selezionarne una parte che diventerà combustibile da rifiuto. Cioè energia ricavata dall'immondizia. Tornando all'impianto, la fase più delicata è il filtraggio dell'aria in uscita, che avviene anch'esso in modo naturale. Ad attuarlo, infatti, è uno strato di radici arboree, alto 2 metri, adagiato sul solaio. Insomma, l'uomo chiede alla natura di riparare i danni che egli stesso arreca l'ambiente. Tante le autorità che hanno partecipato all'inaugurazione. Tra queste il sindaco Emiliano, che ha sottolineato come questo impianto, arriva in ritardo rispetto ad altre parti d'Italia, a causa dei 10 anni di cattiva gestione delle precedenti amministrazioni. Tuttavia, bisogna fare ancora molto nella gestione dei rifiuti. Un incremento della raccolta differenziata consentirebbe di alleggerire ulteriormente la quantità di materiale da conferire in discarica. E soprattutto, consentirebbe di ricavare dal nulla nuova materia prima. Per ora, si può solo sognare un futuro senza discariche. Per il barometro, Roberto Maggi.